Allora, Paola, la libreria dell'amore. Che cosa ci propone questa settimana? La libreria propone un colpo di fulmine. Io ho avuto proprio un colpo di fulmine, come ti dicevo, non per un uomo ma per un romanzo, che si intitola come una fiaba. Bianca come il latte, rossa come il sangue. Sta scritto in una bellissima fiaba di Italo Calvino. Bianco è il colore della paura, della noia, del tedio, dell'angoscia, per Leo, il protagonista sedicenne di questo romanzo. Un ragazzo come tanti, un ribelle che non vuole starsene a lavorare, a scrivere o a studiare e vuole andarsene in giro. Un ragazzo che sfoga le sue inquietudini facendogli sfidoni a motorino col suo amico del cuore Nico. O si confida con Silvia, la sua amica del cuore, dandole appuntamento per delle confidenze molto personali su una panchina rossa. Beh, bianca come il latte, rossa come il sangue, è in realtà una bella, tenera e grande storia d'amore. Tra Leo e Beatrice, pelle di affana e una nuvola di capelli rossi, che Leo scoprirà essere malata di leucemia. È una storia niente affatto eccezionale dunque, però umana, molto tenera e soprattutto io l'ho trovata coraggiosa. Osa il coraggio delle parole, osa il coraggio del dolore, osa il coraggio, quasi la temerarietà, dei sentimenti assoluti che solo gli adolescenti sembra abbiano la possibilità di gridare senza vergognarsi e che magari gli adulti si limitano ormai solo a sussurrare. Però se le parole d'amore possono spaventare, non spaventa l'autore parlare in modo non banale e soprattutto non catastrofista degli adolescenti. Non ha paura di raccontare di genitori che si amano da vent'anni e provano a spiegare come si fa ai loro figli. Beh, qualcuno l'ha definito in questi giorni, perché se ne parla molto di questo ragazzo, un romanzo buonista. Beh, non lo è affatto. Questo è un romanzo buono di un giovane scrittore di grandissimo talento che di mestiere fa il professore di liceo. Si chiama Alessandro D'Aveni, è nato a Palermo, adesso insegna, penso precario, in una scuola di Milano. Così come è buono e ricchissimo di fascino, molto affascinante, il supplente che arriva in classe e che Leo Apostrofa chiedendogli, ma come mai fai un mestiere così sfigato come il professore. In realtà il professore riesce piano piano a sedurre i suoi studenti, soprattutto indirizzandoli verso una cosa semplice, abbiate un sogno e inseguitelo. Lui li affascina un po', non so se ricordi, come il professor Keating dell'attimo fuggente, piuttosto che il diario di scuola di Pennac, con le parole e con la letteratura, con le parole, ma soprattutto, infatti lui è soprannominato il sognatore, insegnando loro a scegliere un sogno e a inseguirlo caparriamente, credendoci proprio fino in fondo. Beh, io me ne sono innamorata, quindi lo consiglio ai sedicenni, ai diciassettenni, ai diciottenni, ai genitori, che secondo me leggendo questo romanzo capiranno anche molto di più dei loro figli, e lo consiglio ai professori, che una volta tanto non vengono raccontati come degli sfigati, ma come degli individui capaci anche, magari solo per un attimo fuggente, di dare gioia e energia ai loro studenti. Buonanotte. Grazie Paola Calvetti, buonanotte. Allora, c'è tempo per vedere altri due giornali. Due giornali economici su domani.